Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno. Ciao a tutti e bentrovati a Start Me Up, il podcast che vi tiene aggiornati sull'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Un grazie al nostro sponsor tecnico KIDRA.com, servizi web per il tuo business, ai nostri Patreon e a Cristina Marras, splendida voce che accompagna la sigla di apertura e di chiusura di questo podcast che fa parte del ciclo Fallisci Meglio. Come forse ricorderete, Fallisci Meglio è la serie di Start Me Up che racconta ciò che chi fa impresa al Sud Italia ha imparato dalla propria esperienza di fallimento. Non stiamo parlando di fallimento in senso giuridico del termine, è chiaro. Ci riferiamo a tutti quegli errori che ci sono costa di cari e di cui è importante trarne vantaggio. La storia di questo podcast, più che di fallimento, tratta di pivot, cioè il cambio sostanziale della struttura dell'azienda e del suo modello di business. È la storia di Massimo Morgante che oggi sta portando avanti Musify, un progetto che nasce sei anni fa circa con il nome di Volumit. Era un progetto nato nel 2013 come una piattaforma di social network musicale dove le persone potevano caricare e creare la propria collezione musicale online. Nel frattempo, non avendo trovato un modello di business, abbiamo iniziato a lavorare al nuovo progetto che era quello di connettere sempre nell'ambito musicale gli artisti con i fan. Abbiamo fatto una linea molto semplice che era quella di creare il fan club dell'artista. Davamo quindi una piattaforma digitale all'artista dove poteva creare un proprio canale a sottoscrizione dando all'interno dei reward che potrebbero essere sia fisici che digitali. Massimo e il suo team di allora sono molto attenti alle reazioni del pubblico e cercano di reagire come possono. La seconda versione di Volumit, quella che Massimo ci ha appena descritto, era quindi una sorta di Patreon, il portale che permette ai artisti e producer di raccogliere offerte dai propri fan, però verticale sul mondo della musica. Patreon è lo stesso sistema che usiamo noi qui a Star Me Up per raccogliere delle donazioni da voi ascoltatori. È un modello che presentava alcune criticità, come ad esempio il contatto con gli artisti. C'era un grosso dislivello tra l'artista piccolo, il medio e il grande. Il grande ovviamente ci doveva arrivare tramite discografica, la discografica la contattavi, diceva che questa parte non era interessante per loro o comunque magari non la gestivano direttamente, quindi dovevi spiegare. C'erano troppi passaggi da fare. Quando andavi dall'artista piccolo o medio ci arrivavamo direttamente. Questo nuovo modello di business di Volumit, nonostante le criticità appena espresse, aveva comunque dei vantaggi rispetto al primo, quello cioè del social network della musica. Il cambio di modello portava al fatto che noi non dovevamo avere più una massa critica, perché noi offrivamo il servizio. Quindi se tu avevi 100 fan paganti, erano i tuoi 100 fan. Se un giorno si fosse iscritto da Scorossi avevai 200.000 fan paganti, 50.000. Quindi eravamo passati a un B2B2C, perché noi poi il nostro modello di business era una percentuale sull'utente registrato al fan club del singolo artista. E Volumit piace, soprattutto agli investitori. Stavamo in corsa per un bando regionale. C'era praticamente la possibilità di avere questi finanziamenti, solo che noi dovevamo trovare il 30%. Siamo andati in giro a cercare, alla fine, piccoli investitori, un tot di investitori che davano una piccola cifra. In realtà dopo 8 incontri avevamo raccolto 8 sì. E a quel punto abbiamo un po' abbandonato l'idea del fondo, perché dal lato era buono, perché era un fondo regionale, dall'altro ci dava delle limitazioni facendo due diligence, facendo poi i contratti di equity, di cessione di quote molto stringenti per noi. E alla fine siamo arrivati ad avere come lead investor la società riduttisce le due a radio. Oltre all'investimento, questa azienda, ci ha raccontato Massimo, si faceva carico di tutta la parte di marketing e PR, così da permettere al team di Volumit di dedicarsi alla piattaforma e tutti gli aspetti tecnici. Ma le cose purtroppo non vanno come previsto. Ma in realtà i tempi si sono molto allungati proprio nella fase di accounting e soprattutto nel far recepire agli artisti, etichette, casi scurabili che erano, le potenzialità del prodotto. Cioè nel senso che a detta degli artisti loro non volevano guadagnare dei fan in questo modo. Cioè chi non ci credeva diceva non pensiamo che i nostri fan ci danno soldi per questi erano i piccoli. In realtà tendenzialmente non si è mai messa male, ma quello che abbiamo scoperto e ci ha fatto in qualche modo bloccare è stato dopo aver capito che il modello funzionava ma a livello di agenzia non riusciva a essere scalabile. State ascoltando Fallisci Meglio, lo spin-off di Star Me Up che racconta il buono dietro il fallimento di una start-up, possibilmente del sud Italia. Quello che stiamo ascoltando in questo podcast più che un fallimento è il pivot di Volumit, oggi Musify, e lo sta raccontando ai nostri microfoni il suo founder, Massimo Morgante. Fino ad ora abbiamo raccontato i due business model messi in campo da Volumit, il successo con gli investitori e le prime criticità. Fra tutte, il fatto che gli artisti non volessero curare da sé questo canale. Se ci fosse stato qualcuno che lo avrebbe fatto al posto loro sarebbe pure andato bene. Ma quello non era il core business di Volumit e soprattutto non gli avrebbe permesso di scalare come avrebbe dovuto. E così si è reso necessario un ulteriore cambio. Questa volta però si è cercato di partire da qualcosa che funzionava già. Sempre all'interno della piattaforma noi che volevamo fare è che volevamo sviluppare dei prodotti da inserire all'interno del fan club. Quindi io ti do il fan club ma ti do degli strumenti tra cui gioco. Quindi noi avevamo sviluppato un gioco direttamente su Facebook, quindi via chatbot, direttamente nelle pagine dell'artista. Noi creavamo delle domande sulla vita dell'artista, contattavamo l'artista partiva il gioco quindi con una serie con premi in palio che in realtà erano sempre incontri con l'artista, prime della registrazione del disco. Comunque abbiamo fatto molte molte attività. Questa cosa era recepita molto bene dagli artisti. Quindi noi contattavamo loro e gli proponevamo di fare questo gioco. Questo gioco ovviamente doveva funzionare sulla loro pagina ufficiale di Facebook tramite il loro bot, cioè tramite la loro pagina, tramite il loro messenger. Questa cosa è andata molto bene con, tendenzialmente con diversi artisti. Considera che abbiamo fatto 25 mila giocatori in due mesi. Molto buono. Il problema era sempre lo stesso, come monetizzare questo. In realtà, oltre alla monetizzazione, il problema era anche un altro. C'era tutta la fase di trovare gli artisti, di contattarli, convincerli, il premesso che era gratuito. Una volta dato l'ok si dovevano scrivere le domande, dovevano essere approvate le domande, doveva partire il gioco, dovevamo fare piccoli test e partiva una campagna pubblicitaria, diciamo, che faceva aumentare il numero di giocatori. Dovevamo risolvere questo problema, perché era molto lungo e quindi l'idea che c'era venuta era quella di creare dei giochi per l'artista sulle canzoni. Quindi io ti creo il gioco tuo, tuo di artisti con tutte le canzoni, un quiz musicale. L'idea era proprio fare il quiz musicale, quindi ascoltare 10 secondi di canzoni con 4 risposte e quindi tenerlo già pronto. In questo modo potremmo andare da un numero molto più ampio di persone a dire, ho il gioco tuo, quindi creare la piattaforma che prendesse tutto. Ho il gioco tuo, lo vuoi utilizzare? Nonostante tutto, Massimo e il team di allora riescono a pubblicare una versione dell'app, ma i risultati non sono convincenti. Siamo all'inizio del 2018 e tutto sembrava perduto. E poi a luglio ho incontrato un ragazzo che si occupava di giochi e avevo proposto di aiutarmi a sviluppare questa cosa che già era stata fatta, ma era stata fatta male. praticamente poi lui è partito da settembre, ha fatto le modifiche la prima volta all'app che funzionava, poi in realtà è stata sviluppata, ha coinvolto lui e un altro ragazzo per ottobre praticamente. Abbiamo sviluppato una prima versione dell'app nativa proprio, sia su iOS che su Android e a dicembre abbiamo rilasciato la prima versione. Nel frattempo abbiamo coinvolto un'altra persona, poi altre due e da dicembre a gennaio l'abbiamo rifatta completamente e l'abbiamo rilasciata a gennaio praticamente, metà gennaio, in realtà pochi giorni prima della fine di gennaio in concomitanza con l'inizio del festival di Sanremo. A questo punto è bene capire come funziona Musify. Musify è una app che chiunque può scaricare sul proprio smartphone. Dopo la registrazione l'utente sceglie una playlist e dovrà essere bravo a indovinare nel modo più veloce possibile la canzone che sta ascoltando o l'artista che la canta. Naturalmente più l'utente è veloce più c'è la possibilità di scalare la classifica. È quindi un gioco a chi conosce più canzoni e cantanti. Se ricordate bene il discorso del quiz era una delle funzionalità secondarie della seconda versione di Volumit. La bravura di Massimo e del suo team è stata quella di notare che effettivamente era la cosa che funzionava di più fra gli utenti e quindi hanno pensato di valorizzare questa parte a discapito di tutte le altre. In gergo tecnico questo è quello che si chiama zoom in pivot ovvero quando si prende una caratteristica che era pensata come secondaria e la si fa diventare centrale. Naturalmente in questo senso è perché si ascolta la propria utenza. E il progetto così com'è quindi è piuttosto recente e sta avendo molto successo fra gli utenti ci dice Massimo e al momento sono in ballo due modelli di business. Uno è quello che abbiamo diciamo che dobbiamo ancora testare che era praticamente il gioco e a pagamento. In questo momento è gratuito, tu puoi giocare, ne ti diamo dei crediti, quando finiscono i crediti li puoi riacquistare. In realtà attualmente te ne diamo talmente tanti oppure le playlist sono gratuite quindi puoi giocare B2C. In realtà questo è il modello che faremo in revenue share probabilmente con le tassi discografiche perché utilizzando musica per monetizzare dovremmo fare le money share. Mentre il secondo? L'idea è creare con dei brand, dei giochi tematici. In realtà per quanto riguarda i brand editoriali, quindi nel nostro caso una radio anziché un festival, mettiamo ancora le canzoni. Mentre invece se c'è un brand possiamo fare un gioco a tema musicale. Faccio un esempio che ho visto ultimamente, noi ancora stiamo testando ora questo modello, quindi stiamo parlando ora con le società. Timberland, se c'è un esempio, ho visto che su Spotify aveva una playlist che si chiama Celebrate the Icons, quindi aveva all'interno di questa playlist tutte canzoni legate ai più importanti gruppi rock di sempre. L'idea è che possiamo fare lo stesso gioco con domande sulla vita degli artisti presenti in quella playlist, per esempio, dove il brand si promuove in maniera diversa rispetto a quello che è un banner o una playlist. Non sei più utilizzatore solo, in questo caso della playlist, quindi ascoltatore, ma giochi al gioco del brand. Come al solito, nella terza e ultima parte di Fallisci Meglio cerchiamo di trarre un po' le conclusioni di ciò che abbiamo ascoltato fino a qui. Prima voglio solo dirvi che la settimana scorsa c'è stato il primo community caffè del gruppo Telegram segreto di Starmi App. In poco meno di un'ora abbiamo posto le basi per la creazione di questa community che sostiene economicamente il podcast che tutte le settimane ascoltate. È molto importante per me, al di là del discorso economico che mi permette di mantenere in piedi la struttura, anche perché mi dà la possibilità di condividere il percorso di Starmi App con persone con uno stesso obiettivo, il racconto di un sud Italia diverso. Al termine di questo podcast spiego come entrare e far parte di questo gruppo. Adesso però torniamo a Massimo Musify. Mentre lo intervistavo ho notato che Massimo utilizzava sempre un noi e quindi gli ho chiesto del team che nel corso del tempo è cambiato molto. Il progetto in realtà iniziale di Volumit era nato sei anni fa con tutte le altre persone che poi man mano si sono staccate. Poi nella versione 2 di Volumit era subentrato un socio, una persona che comunque ha sviluppato tutta la piattaforma, era diventato socio ma poi era stato sempre esterno. Cioè ci lavorava ma non a tempo pieno. Poi in realtà c'è stata una fase in cui quando abbiamo trovato i soldi abbiamo investito in risorse e quindi siamo arrivati anche ad essere 8 e poi l'anno scorso zero è finito tutto diciamo e quest'anno in realtà siamo in 4 e sì sono io diciamo in qualche modo l'unico vecchio però in realtà stiamo collaborando come se fosse l'inizio una startup. Come se fosse una startup dice Massimo sicuramente nello spirito ma con un insegnamento molto grosso alle spalle. Quale? Lo dice lui stesso. La concretezza. Cioè nel senso noi siamo siamo da tre mesi online e abbiamo fatto più contatti in cinque anni di Volumit. Un aspetto che non resta confinato alla sola azienda. Imparato ad essere più concreto, ho imparato ad essere analitico e anche forse un po' più... si può dire? Faccio ricorda. Nel senso che quando avevo iniziato Volumit molte cose anche a livello di startup non le conoscevo che poi man mano ho studiato dopo. L'approccio di Musify è stato super lean rispetto a quello di Volumit che prima di andare online siamo stati quasi un anno, un anno e mezzo. Musify in due mesi l'abbiamo lasciata fuori. E infine Massimo mi confessa. Cioè c'è tanta esperienza in Musify. Questo poco mi è sicuro. Poi come dire funziona lo sappiamo però sicuramente abbiamo avuto dei contatti talmente grandi in Musify dopo manco un minuto che eravamo usciti, che sembravano fossero scherzi in realtà. Chiudiamo il nostro racconto di Volumit Musify con una delle cose che Massimo si porta dietro di questi ultimi sei anni passati a fare impresa. Se inventi qualcosa e non c'è un competitor, cioè proprio da un lato ovviamente se riusciva a sfondare eri l'unico. Però dall'altro se tu andavi dall'investitore e dicevi chi è il tuo competitor? Guarda c'è questo ma non fa tutt'altro. Ma c'è qualcuno uguale? No. Non ti diamo i soldi. Ho visto persone che hanno chiuso round da 2 milioni facendo la copia esatta di progetti americani. Lui era Massimo Morgante di Musify. A Fallisci Meglio ha raccontato la storia di Volumit. Trovate tutti i riferimenti nel post che accompagna questo podcast su radiostarmiup.it Fallisci Meglio è una rubrica spin-off di Starmi Up, un podcast che è sostenuto ogni mese da Tamara, Riccardo di Refactoring.it, Tomoti di MoveUp.eu, Giacomo di StrettoInCarena.it e Giuseppe di Ardic.com A loro va il mio personalissimo grazie, così come agli altri abitanti del gruppo Telegram Segreto. Il gruppo è segreto, appunto, ma non significa che sia chiuso. Se volete farne parte basta fare una donazione tramite Patreon o Satispay. Oltre all'ingresso nel gruppo, in base a quanto donerete riceverete altri benefici, come il network che fino ad oggi abbiamo messo in piedi e alcuni contenuti speciali. I benefici sono descritti su patreon.com slash fabbruno con due b. Mentre i link per fare le donazioni sono nella descrizione di questo podcast e su radiostarmiup.it. Per chi non potesse fare una donazione può restare comunque in contatto con Starmi Up attraverso il gruppo Facebook, che si trova nel solito modo, e cioè digitando Starmi Up al gruppo d'ascolto nella barra di ricerca di Facebook. Inoltre potete dimostrarci tutto il vostro affetto facendo una serie di cose gratis che fra un attimo Cristina vi dirà. Io vi ringrazio per averci ascoltato fino a qui e vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo podcast o, quando lo vorrete, sui canali di Starmi Up. Alla grande! Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stilina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati! Non perderai così neanche un podcast. Non sai come fare? Su radiostarmiup.it trovi le istruzioni, il link diretto a iTunes e il RSS che puoi usare su Android. Ci sono anche il link ad alcune app da scaricare gratuitamente che puoi usare per ascoltare i podcast direttamente sul tuo smartphone. Altrimenti vai su spricker.com e cerca Startmi Up. Startmi Up è un prodotto di Smartwork, idee digitali per il mondo reale e può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti www.radiostarmiup.it